Palazzo Mezzabarba, Sala Giunta, Marco Galandra, Assessore alla Polizia Locale, Pietro Trivi, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive per presentare il rilancio di un'operazione di sicurezza ausiliaria in alcuni momenti della città caratterizzati dalla Movida, molto vivace in città, un'operazione che negli anni scorsi ha dato ottimi frutti e che quindi viene riproposta. Sì, è un'operazione che negli anni scorsi gli esercenti hanno mostrato di apprezzarsi, è stato grande entusiasmo da parte degli esercenti e da parte degli utenti, da parte dei turisti, da parte di tutti quelli che frequentano e che vengono nella nostra città per il fine settimana o in quella che è la classica serata della Movida, cioè il mercoledì sera. È un servizio sussidiario questo che sopperisce alla mancanza anche di personale purtroppo, perché è la polizia locale che viene impiegato in altri servizi molto importanti, perché non dobbiamo dimenticare che negli ultimi tempi la polizia locale e gli uomini della polizia locale sono stati impiegati in operazioni brillanti, come quella contro i writers, come quella contro la tossicodipendenza. E c'era la necessità anche di garantire un servizio, come dicevo prima, un servizio sussidiario e di aiuto che garantisse gli esercenti, garantisse gli utenti. Abbiamo trovato la collaborazione di questa società di vigilanza privata, cosa che viene fatta a Pavia, ma viene fatta anche nel resto d'Europa, perché siamo stati recentemente anche in Austria, che è un paese molto avanti, in una cittadina che ha caratteristiche simili alle nostre per quanto riguarda il divertimento, per quanto riguarda il tipo di divertimento, il centro storico è pieno di locali e anche lì la polizia locale ha dei compiti ben precisi e quindi questo servizio di vigilanza e nei confronti della Movida, per garantire una Movida più sicura, non è un servizio anti-Movida, perché la città di Pavia non è anti-Movida, la città di Pavia vuole che la Movida sia una Movida controllata, sicura e che garantisca la tranquillità per tutti, i cittadini ed esercenti. Ecco appunto, viva città della città da una parte e dall'altra parte sicurezza e questo qua è in un momento, questa operazione, in un momento non semplice, soprattutto per le casse degli enti locali, è una vera e propria operazione virtuosa. Certo, innanzitutto ringrazio il Sessore Trivi per il riconoscimento dell'attività svolta dalla polizia locale di Pavia, questa della Movida, del controllo serale della Movida, ripeto, un'iniziativa, come si diceva, molto qualificante, molto interessante, che ha dato ottimi risultati, soprattutto appunto in un periodo in cui le risorse sono limitate, riuscire con un esborso relativamente ridotto a tenere sotto controllo un fenomeno che potrebbe diventare anche piuttosto devastante e piuttosto fastidioso come quello della Movida serale, appunto se non controllato anche dalle istituzioni, ecco, ci sembra un ottimo risultato. Come ottima cosa è la collaborazione, l'interesse dimostrato dagli esercenti per questa iniziativa che evidentemente gli esercenti stessi trovano efficace e utile per la città e per la loro stessa attività. Un servizio virtuoso, un servizio importante di cui concretamente si occupa L Security. Antonio Testa, un servizio che prima di tutto, e in questo senso i risultati sono già stati molto buoni, mira la prevenzione. Assolutamente sì, il nostro lavoro è fare prevenzione innanzitutto. Noi siamo particolarmente onorati del fatto che l'amministrazione comunale, ma anche gli esercenti, ci abbiano rinnovato la loro fiducia. I nostri uomini sono pronti a mettere in campo la stessa professionalità già messa in atto nella scorsa edizione. Pertanto riteniamo che il nostro servizio, il nostro contributo farà in modo che la Movida si svolgerà con maggior sicurezza per tutta la cittadinanza. Ecco, mercoledì, venerdì e sabato sera, in concreto, anche parlando dell'attività svolta fino ad oggi, qual è la tipologia di interventi che siete stati chiamati ad eseguire? Ma guardi, siamo stati chiamati ad intervenire su un principio di rissa dove era iniziata una colluttazione e grazie all'intervento dei nostri uomini appunto non è degenerata. L'obiettivo è quello di creare deterrenza e di intervenire ovviamente con la professionalità e la conoscenza che i nostri uomini hanno per far sì che appunto certe situazioni non digerino. Ecco, tutto questo per chiudere al servizio del cittadino in collaborazione con gli esercenti e in sinergia con le forze dell'ordine. Assolutamente sì, i nostri uomini mantengono un collegamento costante con la nostra centrale operativa la quale poi si interfaccia con quella delle forze dell'ordine per coordinare eventuali interventi congiunti.